Parleremo adesso dell'importanza del farmacista di reparto, in particolar modo nella gestione ambulatoriale del paziente affetto da HIV. Parlerà quindi per noi di questo argomento la dottoressa Lucia Polloni, farmacista, policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Buon pomeriggio a tutti, sono Lucia Polloni, farmacista ospedaliera presso la farmacia clinica dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, policlinico Sant'Orsola Malpighi. Un sentito ringraziamento all'organizzazione del GIMB per averci dato la possibilità di illustrare la nostra esperienza del farmacista di reparto, coinvolto nella gestione ambulatoriale del paziente con infezione da HIV, esperienza avviata da febbraio del 2012 presso l'unità operativa di malattie infettive. La terapia antiretrovirale altamente attiva che permette una soppressione duratura della replicazione virale ha reso l'infezione da HIV una patologia tendenzialmente cronica. Se cambia la prognosi della malattia cambia anche la gestione clinica del paziente e pertanto l'obiettivo primario diviene il miglioramento oltre che della durata anche della qualità di vita del paziente sieropositivo. Dal grafico è possibile vedere come l'avvento dell'ART abbia portato a una significativa diminuzione della mortalità a causa dell'ADS e un aumento della sopravvivenza dei pazienti affetti da HIV. In questo contesto diviene importante prevenire e trattare le patologie non infettive in corso di infezione di HIV, alcune delle quali possono essere dovute all'assunzione cronica dei farmaci antiretrovirali ed altre dal danno immunologico e dallo stato di flogosi sistemica provocate dal virus stesso. Diviene inoltre importante personalizzare le scelte terapeutiche alla luce delle numerose problematiche individuali di efficacia, tollerabilità e tossicità dei farmaci, gestire i fallimenti terapeutici dei pazienti pluritrattati e monitorare attentamente l'adesione del paziente ad un trattamento cronico e così complesso come quello antiretrovirale. Il farmacista clinico si inserisce pertanto in un sistema assistenziale multidisciplinare rivolto alla cura del paziente con infezione di HIV. In che modo? Affiancando i clinici nella gestione dell'ART e delle eventuali patologie concomitanti, condividendo percorsi assistenziali e supportando le scelte terapeutiche dei medici. L'attenzione del farmacista si sposta dal farmaco al singolo paziente e il momento dell'erogazione mensile della terapia diviene un momento importante per informare i pazienti sulle modalità di assunzione e conservazione dei farmaci, sulle possibili interazioni farmaco-farmaco e farmaco-cibo. Diviene un momento inoltre importante per monitorare l'aderenza alla ART indispensabile per il successo farmacologico, per gestire le eventuali segnalazioni di reazione avverse importanti per accrescere il grado di conoscenza dei farmaci e gestire il farmaco dall'approvvigionamento fino alla distribuzione, onde evitare sprechi e usi inappropriati con lo scopo di controllare e contenere la spesa farmaceutica. L'obiettivo quindi del nostro lavoro è proprio quello di valutare l'impatto nella nostra realtà di questa nuova figura in termini di monitoraggio dell'aderenza, aumento delle segnalazioni di farmaco-vigilanza e contenimento dei costi per i farmaci antiretrovirali. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo condotto uno studio di corte retrospettivo su 1.018 pazienti con un'età media di 48 anni e pazienti che accedono all'ambulatorio HIV della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico. Per l'analisi dei dati abbiamo analizzato il periodo che va da febbraio 2012 a gennaio 2013, quindi i primi 12 mesi del progetto. Il farmacista opera in un ambulatorio accanto a quello del medico infettivologo e contestualmente all'erogazione mensile della terapia consegna al paziente una scheda di valutazione periodica dell'aderenza all'ART, che è un questionario di 10 domande con informazioni specifiche in merito all'aderenza al trattamento, all'assunzione di farmaci concomitanti, a eventi avversi accusati o cambiamento dell'aspetto fisico rilevato. Ciascun paziente deve compilare e riconsegnare il questionario al farmacista il mese successivo. I dati contenuti nelle schede vengono inseriti in un apposito database access. È stato inoltre sviluppato un sistema di farmacovigilanza attiva volto all'aumento delle segnalazioni di ADR, in che modo? Sensibilizzando innanzitutto medici, infermieri e pazienti alla segnalazione. Ed è poi il farmacista che nel ruolo di facilitatore si fa carico della raccolta e dell'inserimento delle ADR nella rete nazionale di farmacovigilanza. Per l'analisi dei costi abbiamo preso in considerazione il trend di spesa relativo ai farmaci antiretrovirali dal 2003 al 2012. Per valutare i dati di aderenza è stata attuata una stratificazione dei dati di aderenza in base alle dosi di terapia antiretrovirale non assunte al mese da ciascun paziente. Questo ci ha permesso di ottenere 5 classi distinte di aderenza che vanno da un'aderenza al 100%, quindi 0 dosi di farmaco non assunte al mese, fino a un'aderenza minore dell'80%, più di 7 dosi di farmaco non assunte al mese. I nostri dati mostrano come il 68% dei pazienti abbiano dichiarato un'aderenza ottimale al trattamento e quindi un'aderenza al 100%. Se consideriamo come soglia di accettabilità per il trattamento antiretrovirale l'aderenza maggiore uguale al 95%, possiamo dire che l'83% dei nostri pazienti ha un buon livello di aderenza. L'aderenza può essere poi correlata a diversi fattori, come al numero di compresse di terapie antiretrovirale assunte quotidianamente o ai dati immunovirologici. Come possiamo vedere da questo grafico, l'aderenza è strettamente correlata al numero di compresse assunte al giorno da ciascun paziente. Infatti possiamo vedere che tra i pazienti che hanno dichiarato un'aderenza al 100% nella prima colonna, ben il 75% assumono da 1 a 3 compresse al giorno e solamente il 25% ne assume dalle 4 alle 12 compresse. Se confrontiamo questo dato con quello dei pazienti che hanno dichiarato un'aderenza minore dell'80% nell'ultima colonna, vediamo che tra questi pazienti solo il 18% assumono da 1 a 3 compresse e l'82% da 4 a 12 compresse. Questi dati mostrano come la semplicità posologica, soprattutto nel trattamento antiretrovirale, sia importante per favorire l'aderenza al trattamento. Siamo andati poi a valutare e a vedere in che modo l'efficacia terapeutica possa essere influenzata dall'aderenza e per quest'analisi abbiamo valutato i dati monovirologici e quindi nello specifico i valori della viremia media e la contamedia dei linfociti TCD4 in un gruppo di 49 pazienti naive per la prima volta trattati con farmaci antiretrovirali nel periodo in esame e che hanno dichiarato un'aderenza maggiore o uguale al 95%. I dati monovirologici sono stati analizzati in due tempi distinti al tempo zero, all'inizio del trattamento e dopo tre mesi di trattamento. Da grafici si vede chiaramente come un'elevata aderenza si associa a un'elevata efficacia terapeutica che si traduce in una netta diminuzione della viremia e in un aumento della contamedia dei linfociti TCD4 a distanza di pochi mesi dall'inizio del trattamento. Per quanto riguarda le segnalazioni di reazione avverse nel periodo in esame sono state inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza ben 26 segnalazioni provenienti dall'ambulatorio HIV con un aumento del 92% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il 69% delle segnalazioni sono state inviate direttamente dai medici e questo dato indica una buona sensibilizzazione il 31% dal farmacista dato che indica come il momento dell'erogazione della terapia non si limiti alla sola erogazione ma sia un momento importante di scambio di informazioni con il paziente in merito all'andamento del trattamento. È compito del farmacista anche quello di monitorare l'esito clinico delle reazioni avverse segnalate e ad oggi per le nostre reazioni avverse abbiamo avuto per il 46% un miglioramento e il 12% una risoluzione completa. Il 77% delle reazioni avverse non sono state gravi ma il 23% sono state delle reazioni gravi l'8% delle quali ha messo addirittura in pericolo di vita il paziente. Le reazioni gravi hanno riguardato principalmente disturbi neurologici disturbi gastrointestinali e reazioni dell'acute. Per l'analisi dei costi abbiamo analizzato la spesa relativa ai farmaci antiretrovirali dal 2003 al 2012 considerando i pazienti con almeno 6 mesi di trattamento. Dal grafico si vede chiaramente come dal 2003 al 2012 ci troviamo di fronte a un trend sempre in aumento della spesa accompagnato però, che lo vediamo in rosso accompagnato da un aumento della casistica perché aumentano anche il numero di pazienti. Sicuramente l'aumento della spesa non è dovuta al solo aumento del numero di pazienti ma è dovuta anche all'aumento del costo medio della terapia per ciascun paziente e questo è attribuibile all'acquisizione delle formulazioni più innovative volte al miglioramento della complianza del paziente o fenomeni di resistenza che inducono switch terapeutici verso farmaci più dispendiosi. Nonostante ciò, se ci soffermiamo con il dato del 2012 lo confrontiamo con quello dell'anno precedente ci troviamo di fronte a un'inversione del trend di spesa e questo può essere attribuibile a una migliore gestione della risorsa farmaco da parte del farmacista. Quindi il farmacista clinico di reparto possiamo dire che ha contribuito al monitoraggio dell'aderenza e monitorare l'aderenza ci permette di poter individuare i pazienti meno aderenti e di poterci concentrare in futuro proprio su questi pazienti con interventi ad hoc e personalizzati ma ci ha permesso anche di poter individuare i fattori specifici che influenzano l'aderenza e per poter intervenire su questi fattori e migliorare l'aderenza di tutti i pazienti. Rispetto al 2011 la figura del farmacista ha portato a un incremento del 92% delle segnalazioni di ADR e a un'inversione del 5% del costo medio paziente è calcolato su 12 mesi di trattamento. I limiti del nostro lavoro sicuramente valutare l'aderenza attraverso un questionario che viene compilato direttamente dal paziente porta a basarci su ciò che ha dichiarato il paziente. Il metodo potrebbe mancare di oggettività e l'aderenza potrebbe essere sovrastimata. Per quanto riguarda le segnalazioni di ADR malgrado l'aumento del numero delle segnalazioni il fenomeno della sottosegnalazione permane e pone un problema di valutazione reale della sicurezza dei trattamenti. Infine per quanto riguarda i costi sono stati analizzati solamente i costi diretti della ART senza considerare quelli per la terapia concomitanti i test diagnostici e gli eventuali episodi di ricovero. In conclusione la gestione di pazienti con terapie complesse ad alto costo richiede interventi multidisciplinari e il nostro studio dimostra che il farmacista clinico nell'ambito di questa specifica patologia può migliorare la responsabilizzazione del paziente il controllo degli eventi avversi e il governo della distribuzione dei farmaci e della spesa correlata. Tutto ciò porta sicuramente a una diminuzione del tempo necessario per la visita medica e a una conseguente riduzione delle liste d'attesa anche per i pazienti. Ringrazio voi tutti per l'attenzione e ciascun componente del gruppo di lavoro per il prezioso contributo. Grazie per questa interessantissima relazione per tutte le ricadute ovviamente ad essa correlate. Ci sono domande? C'è un tempo di una o due domande velocissime da parte della platea? Altrimenti ne ho una io e cioè semplicemente quale sarà il prossimo step? Cioè cosa vi proponete di fare per ridurre per esempio l'under reporting e come implementare ciò che avete rilevato in un contesto più ampio? Allora sicuramente sarà utile continuare il monitoraggio dell'aderenza e sarà utile continuare la sensibilizzazione dei medici e degli infermieri e dei pazienti stessi per aumentare appunto proprio la rilevazione degli eventi avversi e sarà utile continuare a gestire razionalmente la risorsa farmaco. Sicuramente potrebbe essere un buon obiettivo se riuscissimo anche a formare un paziente cioè a rendere il paziente consapevole del trattamento e quindi responsabile del trattamento in termini di aderenza e un paziente sensibile alle reazioni avverse e quindi disposto anche ad esprimere i propri problemi e anche un paziente consapevole dell'importanza della risorsa farmaco che assume giornalmente. Bene, grazie. Se non ci sono altre domande passerei alla fase successiva. Grazie.